Salve cari amici di Chimera Revo, siamo qui da Huawei, sempre all'infe di Berlino, stiamo provando Huawei Ascend Mate 7 che è stato appena presentato nei giorni scorsi. Huawei Ascend Mate 7 è un device della gamma tablet, 6 pollici di schermo, full HD, abbiamo un nuovo processore HiSilicon Kirin 925 che presenta 4 core ad alte prestazioni a 1.8 giga, 4 core a 1.3 giga e un microcore per i lavori in internet. 13 megapixel di fotocamera posteriore, accompagnata da Flash LED, 5 megapixel di fotocamera anteriore, troviamo installato Android 4.4 con Huawei Emotion UI 3.0, quindi è una nuova versione dell'interfaccia di Huawei. 2 gigabyte di RAM, 16 giga di memoria interna, 4.100 mila amperò di batteria, sembrano davvero tanti, speriamo che la durata della batteria sia veramente tanta. Qui sul retro abbiamo anche nel design completamente in metallo, come potete vedere è veramente molto bello, abbiamo anche un fingerprint scanner, come quello già visto su HTC One Nice, però non serve scorrere il dito per leggere l'impronta, ma basta appoggiarlo, non serve neanche premere il basso, basta solo appoggiare il dito. Tutta la connettività è possibile presente, abbiamo Wi-Fi a BGN, non AC, Bluetooth 4.0, NFC sul retro e 4G LTE categoria 6. Per ora è tutto, continuiamo il nostro tour qui da Huawei, da Chimera Revo e tutto. Grazie a tutti! Grazie a tutti.